salve a tutti benvenuti su questo canale in questa raccolta trovate le mie lezioni di fisica io sono un insegnante di matematica e fisica del liceo buonarrotti di mo falcone mi chiamo armando pisani e ripeto in questa collezione appunto trovato le lezioni che ottenuto per il corso di fisica del liceo scientifico per ragazzi del quarto e del quinto anno nell'anno scolastico 2020 2021 si trattava quindi di lezioni relative alla termodinamica un po di oscillazioni e onde o portiche acustica elettrodinamica e fino ad arrivare al corso sulla relatività speciale le registrazioni sono state effettuate con tecniche diverse in alcuni casi ho usato il software openeia messo a punto dal gruppo del professor Enrique Canessa presso l'SDU del centro di fisica teorica di Trieste al cui va il mio grande ringraziamento in altri casi ho usato il software di registrazione libero dello schermo che è OBS che ho trovato molto utile e spesse volte ho usato il tablet e l'iPad come lavagna elettronica per poter scrivere insomma utilizzarlo per le spiegazioni disegni e calcoli gli esercizi altre volte ho utilizzato presentazioni che avevo preparato precedentemente alla lezione essenzialmente con powerpoint o in pdf spero che le lezioni vi siano utili vi siano chiare vi auguro buono studio e buona visione se avete dubbi o domande mi potete scrivere al canale l'indirizzo email che c'è nella descrizione del canale e vi invito ad iscrivervi grazie e buono studio ancora e buona visione